good morning anche se direi più buon pomeriggio visto che qui sono le 3 20 mister master maestro o semplicemente o semplicemente david it's december 23 2021 it's first day here in naples 59 fahrenheit around 15 celsius this means che non è quella giornata veramente 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 fredda in questi giorni in questo periodo anche se comunque si c'è qualche grado in più ma comunque ci troviamo diciamo quindi si non è fredda comunque è fredda diciamo today e oggi pensavo al fatto che purtroppo non sono riuscito ad inserire ieri ieri è l'anniversario di praticamente l'anniversario di uscita e quindi in italia l'ultimo dei moicani ma non sono riuscito ad inserire il pezzo dal film non so nemmeno se riesco ad inserirlo nel report di oggi il preview e il pezzo interpretato il preview è il pezzo interpretato perché avevo finito di girare altre cose in altre piattaforme in altri pezzi ho caricato ieri un altro pezzo dal signore degli anelli però comunque tenete d'occhio il mio canale principale tastiera carico tutto lì anche se non riesco ad inserire i preview qui comunque i pezzi poi li carico poi pensavo anche che l'anniversario ieri è l'anniversario di uscita anche di shining sempre del mitico stalli pubblico ovviamente capolavoro assoluto e l'anno scorso pure interpretato midnight stars and you grandissima canzone veramente sognante dreaming secondo me poi anche condita quel riverbero nel film che veramente bellissima al fatto che già lo dico da adesso non so se in questi giorni riesco a fare il report perché troppo sarà un po c'erano le persone qui qui a casa diciamo a trovare anche mio fratello da la figlia piccola quindi non sono sicuro purtroppo riuscire a fare il report è un po di confusione non so fino a quando forse una settimana ma io cerco sempre di farlo di fare il possibile ma già avviso da adesso carimi cari cari seguaci che non è detto che riesco a farla come ha sempre fatto appunto perché dipende io cerco di fare sempre il possibile appunto ma vediamo spero sempre di farli e poi per quanto riguarda il numero di ieri sul napoli purtroppo sul napoli calcio non ha portato bene ma non c'entra niente non c'entrano niente sui numeri perché proprio il napoli che attraversando un periodo nero che perde a pari già sempre per cui lei non c'entra nulla lei i suoi numeri non c'entrano nulla stavo pensando di farle un regalo di natale qui sul report ma poi vedrai che si tratta regalo molto particolare ma comunque a che fare con qualcosa che ho già pubblicato qui nel canale in queste settimane precedenti giorni precedenti poi insomma ci avviciniamo ormai ormai ci avviciniamo alla vigilia di natale appunto un po triste perché se non riesco a fare report domani ma vedremo intanto già faccio gli auguri adesso per la buona vigilia anche per un buon natale a tutti anche a lei qualora non riuscisse a fare porte domani dopo domani giorni a seguire insomma auguri anche per le altre feste eventualmente anyway si just see from the window absolutely we don't have those beautiful blue skies and golden sunshine nulla da dire è inutile dire nemmeno la frase cult perché perché di questi casi perché ovviamente non può cambiare nulla secondo me say that it is so from the mythical window with the colored curtain certo comunque l'inquadratura è sempre interessante perché questa qui crea una certa luce comunque è bella ma comunque è brutta la tenda a causa dell'atmosfera and it's green roller shooter la stessa cosa è inutile dirlo con enfasi è vero poi non abbiamo lo spirito di full blue skies and golden sunshine ma in questi casi a dicembre abbiamo comunque le palle those beautiful giant golden magical and golden golden and white balls and objects from the christmas pine tree che ci possono consolare ovviamente non potenti come those beautiful blue skies and golden sunshine ma comunque hanno loro perché possono comunque sostituirli degnamente saluti anche da dettata al medical window with the white curtain and green roller shooter and finally from my mythical keyboard yamadi gx 640 ipg 625 have a great day in all the people who follow the channel and the reports si saluto veramente a tutti so again have a great day in all these people and have a great and great christmas a vigilia di natale e christmas a natale santo santo stefano e tutte le altre feste qualora non riuscisse a fare i report nei giorni successivi everyone to